Salve a tutti ragazzi, bentornati qui su Trituber Channel, Trituber Universal Ita. Oggi vi parlerò dell'Inter. Praticamente ragazzi, Lecce e Inter, risultato inaspettato, 1-1 ragazzi, per la Juve e per tutti gli amici juventini è una gioia. Dobbiamo vedere se finisce così, mentre nel frattempo Brescia-Cagliari, che prima sta vengendo il Brescia, e Bologna-Verone finiscono in parità. Tutto questo è molto buono per il Lecce, anche se magari una sconfitta del Brescia sarebbe stato meglio. Però in chiave salvezza per il Lecce questi risultati non sono malissimo, anche perché ultimamente Lecce sta andando davvero male, poi vi farò vedere la seriale, le classifiche. Però per adesso andiamo prima a vedere i risultati, i gol, le statistiche e tutto. Appena è entrato ha segnato Bastoni, che è andato al posto di Godin, poi dopo Mancosu ha segnato il pareggio. Mancosu che neanche stava giocando tantissimo. Vediamo se è finita, no? Bologna-Verona, ecco qui il finale. Allora ragazzi, andiamo a vedere subito le formazioni. Nulla di diverso per il Lecce, forse dell'Orco, non è uno che gioca tantissimo. Donati ormai sta giocando sempre. Non sta giocando Calderoni, che ha avuto anche il nuovo campioncino. Babacar la pagatula in attacco. Ragazzi, ma ci rendiamo conto che l'andata era finita 4-0 per l'Inter a San Siro? Invece qui, a Lecce, la situazione è diversa, 1-1. Allora ragazzi, vi ricordo che anche la Juve non ha fatto un buon risultato contro il Lecce. C'è stato un pareggio che ha fatto discutere molto. Quindi qui Godin che è uscito, De Vrij e Skriniar. Per il resto, sempre gli stessi. Sensi, Brozovic, Barella, Candreva, Lukaku, Martinez, Biracchi. I titolarissimi, insomma. E questo risultato è assolutamente inaspettato. Farà soffrire molto i nostri amici interisti. Interisti, tra cui Pino. Un bacio, Pino, ti saluto. E ragazzi, sta per finire ormai la partita. Siamo al 93esimo. Vediamo un po' anche le statistiche. Vabbè, il possesso pallo non avevo dubbi che doveva essere tutto a favore dell'Inter. Anche i tiri, cioè 16, sono veramente un sacco di tiri. Importa 10. Vabbè, l'Inter è stata sicuramente sfortunata. C'è da dire. Ma queste partite qua, ragazzi, sono proprio quelle partite in cui magari la squadra che dovrebbe vincere, quella che domina, ha un po' di sfortuna e a volte vanno a finire così. Anche per la Juve succede. Infatti, per vincere i campionati, ecco qua, è finita. E poi è finita, forza Juve! Forza Juve, forza Juve Conte! Toglite il parrucchino Conte! E quindi, ragazzi, adesso andiamo a vedere subito le classifiche. Perché adesso saranno aggiornate. Quindi, la Juve deve giocare una partita. Stasera avrà una chance importantissima per distaccarsi ancora di più. Sarà un distacco di 4 punti, ragazzi. 4 punti. Vedremo stasera cosa succederà. Mentre la Lazio è molto vicina adesso all'Inter. Ha solo 2 punti. Quindi magari potrebbe diventare la Lazio la nuova concorrente al titolo. Vedremo nelle prossime giornate. Atalanta-Roma... Beh, le altre squadre, ok. Il Cagliari, ragazzi, il pareggio di oggi non è una cosa buona perché giocava contro il Brescia. E invece per il Lecce questo pareggio è fondamentale per non andare a finire nelle ultime 3. Quindi il Brescia comunque prende un punto importantissimo. Mentre qui abbiamo anche il Verona, 26 punti. Ok, quindi non è che rischia tantissimo la retrocessione. Addirittura sta sopra il Napoli, ma raga, non parliamo proprio del Napoli, che è meglio. Buonanile 24, Fiorentina 24. Allora ragazzi, questo campionato è veramente imprevedibile. Nella zona centrale è veramente imprevedibile, non si capisce niente. Quindi raga, il Lecce... Niente, sta lì... Rischia tantissimo. Rischia tantissimo, però questo pareggio ci voleva. Deve fare le partite, ha ancora i match quelli da un po' più semplici, vedremo nel girone di ritorno, se ce la farà a salvarsi. Mentre anche il Brescia comunque sta dando segnali di ripresa. Ha segnato Torre Gross, ha fatto la doppietta. Mentre ha segnato anche del Cagliari, Gioao Pedro. Ne sarà felice l'amico Francesco che l'ha utilizzato come acquisto in questa giornata. Mentre sarà tristissimo Vincenzo che l'ha venduto, si è tolto sia lui che Boga e entrambi in gol. Quindi giornata sfortunatissima per lui. Allora ragazzi, per oggi è tutto, vi saluto. Un bacio, iscrivetevi, mettete like e commentate. Grazie. Grazie.